Attore soprattutto di produzioni televisive. Ha lavorato anche nei fotoromanzi, al cinema e in teatro. È stato protagonista di fiction tv di successo come lui e lei con Vittoria Belvedere, Camici Bianchi, con Ugo Pagliai, in onda su Canale 5, Vento di Ponente, con Serena Utieri e Anna Canacchis. E una puntata di Carabinieri 6. Reggia di Sergio Martino. Al cinema è comparso in Simpatici e Antipatici e da protagonista in Encantado. Nel 1989 al concorso Il Più Bello d'Italia ha vinto il titolo di Più Bello X il Cinema. Nel 1992 ha ricoperto un ruolo nella sopopera statunitense Santa Barbara nei mesi di poco. Precedenti alla cancellazione della sop, quello del prete italiano, Giovanni D'Angelis, figlio di Micà, Pao Penghils, nell'agosto del 2007 è entrato nel cast della sopopera Cento Vetrine. Dove fino a luglio del 2009 interpreta il ruolo di Daniele Ferrari. Nel 2012, dunque cinquantenne, è diventato padre, ha avuto un maschio, Martin, dalla compagna Manuela.